dentro una costruzione che ci produce, come soggetti ci assoggetta e quindi è un lavoro che dobbiamo fare su di noi, però non basta farlo da soli perché non c'è consentito di stare, cioè non c'è un fuori dal quale mi posso isolare e sperimentare, quindi la sperimentazione che è interna, esterna, sociale e interiore, è un lavoro di decostruzione che contemporaneamente decostruisce i due poli, quello egemonico e quello controegemonico e quindi la difficoltà è quella di trovare la forza, la potenza politica, la capacità di ribaltamento o di deturnamento o di sovversione, tutto questo però si può giocare solo, localmente, di volta in volta e quindi il consiglio è dotarsi di metodologia in qualche modo qui e poi vedere come funziona nella propria cameretta o fuori o nell'università o sui di lavoro o di lavoro, no? E quindi adesso passiamo al nostro... Sì, aggiungo solo una cosa, penso che appunto il punto che tu hai rilevato relativo al riportato... uno dei punti fondamentali che tu hai individuato è quello della... ti vado a sottolineare, quello della sfida epistemologica che il queer pone, cioè questo... l'ambizione appunto di non limitarsi a invertire le polarità del discorso oppressivo e quindi di emendarle con un atto ripartivo o con un atto integrativo, ma proprio di scardinare l'assunto alla sua base ed è anche questo recuperabile in quella operazione originale di rivendicazione del termine queer per i soggetti che ne erano deligrati, quindi questo significa... vuol dire non stare al gioco, no? Ecco, quindi... Così come io non sto al gioco dell'insulto e quindi non mi preoccupo di rispondere, no, non darmi del frocio perché in realtà io, non lo so, sono maschione tanto quanto te, per esempio. Assumere per sé il termine queer e il termine frocio allora diventa appunto spiazzare e completamente disattivare il dispositivo di potere di chi usa questo assoluto. Un altro punto che volevo sottolineare è quello delle critiche alla critica queer, no, di cui tu parlavi effettivamente essendo questa materia, questa letteratura un po' cioè diciamo è molto variegata e anche molto per esempio interdisciplinare e transdisciplinare per cui siccome soprattutto, insomma, magari recentemente è anche cambiata questa cosa però fino a poco tempo fa e a maggior ragione in Italia chi si occupa di teoria queer, cioè non è che fa il teorico queer nella vita fa altre cose, fa magari comunque un lavoro relativo al settore della conoscenza magari sarà un sociologo della cultura, un filosofo analitico, un semiotico, un cavolo non so per cui effettivamente è molto difficile riuscire poi a maneggiare tutti gli strumenti che vengono utilizzati da altri e da altre all'interno della propria produzione di critica queer allo stato attuale delle cose è impossibile riuscire a seguire tutto e a maneggiare la veramente esplosione di produzione intellettuale che c'è in questo campo per cui è un po' questo, questa difficoltà dovuta anche alla interdisciplinarità e un po' l'altro problema è quello che di solito, diciamo l'accusa di essere un discorso elitario che deriva appunto da questa sua presunta difficoltà è una teoria queer, questa cosa tutta strana, fumosa, vaga è come dire un giochino intellettuale di qualche frocia americana privilegiata che insegna nella super mega facoltà di letteratura inglese all'Ivy League noi cosa ce ne facciamo qua per le nostre politiche allora anche un po' per, come dire, smentire queste vulgate volevamo provare a parlare di teoria queer a partire appunto dai fatti di cronaca, diciamo così per far vedere un po' come effettivamente può funzionare sto queer allora io ho scelto di proporvi questo caso vi spiego cosa è successo il dibattito è quello sulla omogenitorialità che anche nei media generalisti è finalmente un po' emerso prima ci si limitava al dibattito sulle unioni tra persone dello stesso sesso che è un dibattito che sta in piedi veramente sul nulla è molto interessante poi andare a vedere nelle retoriche su che cosa si basi, su cosa si fonde, si fonde sul nulla perché il sotteso sempre presente rispetto al dibattito sulle unioni omosessuali come si suol dire è quello della genitorialità quindi è un po' un discorso che si fa per via surratizia siccome magari non si vuole affrontare direttamente quello della genitorialità allora si parla di unioni omosessuali però come dire le due faccende sono ovviamente strettamente negate quindi non è andata direttamente alla faccenda dell'omogenitorialità allora sui vari media generalisti incominciano appunto a circolare questi dibattiti e come spesso viene in questi casi ci si rivolge alla scienza con la S maiuscola e il suo potere oggettivante per cui su molti media italiani io ho scelto il mio preferito che è avvenire è stato riportato di appunto uno studio di questo studio condotto da un sociologo dell'università del Texas americano, di mega finanziamenti e vi dico che cosa riporta questo studio pubblicato nel 2012 il testo vanta un impianto metodologico inedito quantitativamente e qualitativamente sia perché si basa sul più grande campione rappresentativo raccolto sul tema un campione di 12.000 12.000 persone sia perché per la prima volta fa parlare direttamente i figli ormai cresciuti di genitori omosessuali e dimostra che attenzione il 12% pensa al suicidio contro il 5% dei figli di coppie etero il 40% è più propenso al tradimento il 28% è disoccupato non so l'8% e poi il 19% ricorre alla psicoterapia contro l'8% ma attenzione ancora peggio nel 40% dei casi questi ragazzini hanno contratto una patologia trasmissibile sessualmente contro solo l'8% e inoltre sono genericamente meno sani chi può avere più inclini al fumo e alla criminalità ecco per cui insomma questo studio che peraltro è stato commentato anche da Giuseppe Di Mauro che comunque è il presidente della società italiana di pediatria preventiva e sociale parlando di personaggi in certe posizioni ecco questo studio è insomma ci ha parlato abbastanza comunque sui media ora nel frattempo di per sé lo studio è stato completamente smontato perché sostanzialmente è venuto fuori un gigantesco errore metodologico cioè siccome non riuscivano ad avere un campione abbastanza ampio di individui di coppie diciamo di genitori omosessuali il campione era sbilanciato per cui praticamente la comparazione alla fin fine non era tra genitori omosessuali e genitori eterosessuali ma tra coppie funzionali e coppie disfunzionali cioè per avere il campione pari quello delle coppie o comunque dei genitori in realtà dei genitori omosessuali era molto mal stratificato dal punto di vista di tanti fattori importanti appunto per la funzionalità della funzione genitoriale per cui ovviamente se come dire le coppie eterosessuali prese in esame in questo studio sono tutte felicemente conviventi doppio stipendio eccetera ci sarà un determinato esito se tutte le o comunque molte delle coppie omosessuali magari non sono neanche coppie sono famiglie monogenitoriali o con insomma problemi di varie disfunzionalità a livello sociale tipo tra tau altro tossegondipendenza alcolismo eccetera è ovvio che la funzione genitoriale magari insomma non ci viene proprio bene perché insomma ci sono anche problemi per cui insomma vabbè campione sbilanciato errore proprio metodologico da prima alimentare comunque però come dire quando anche fosse quando anche fosse lo studio comunque è stato poi ricomentato per cui per esempio una risposta a questo tipo di retorica ce l'abbiamo un ottimo esempio da Paola Concia che commenta le affermazioni sono pericolose e gravi bla 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 e poi dice abbiamo sulle spalle 30 anni di studi scientifici e di ricerche pure 30 anni condotte da istituzioni internazionali autorevoli come l'American Psychological Association l'American Psychiatric Association l'American Academy of Pediatrics bla 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 che spiegano come non ci sia nessuna differenza neppure minima negli effetti che ha l'omogenitorialità sulla crescita dei bambini rispetto alla genitorialità eterosessuale ok quindi questo è come dire la versione riparativa la versione assimilazionista la versione integrativa cioè la risposta è siamo uguali anche noi abbiamo i nostri studi scientifici abbiamo le prove sono scientifiche tanto quanto le tue forse anzi sono più scientifiche ancora perché metodologicamente sono molto meglio e ci dicono che in realtà noi siamo uguali ok bene allora la domanda a questo punto per noi è quale può essere invece una critica qui a questo tipo di prodotto culturale dunque ne discuterei insieme io ho individuato alcuni punti intanto credo che il primo punto di risposta queer sia in generale una critica proprio a processi di legittimazione scientifica dell'idoneità genitoriale di determinati gruppi sociali quindi come dire la premessa questa e poi voglio dire adesso c'è una psicometria che sta veramente su queste faccende andando a manetta però non è che ci siano poi tutti questi studi sulla performance genitoriale non so dei pegani o dei cinesi o dei figli dei molti miliardari quindi come dire già il fatto di voler valutare attraverso parametri oggettanti la possibilità o capacità o meno di essere genitori di un gruppo sociale è da mettere a tema quindi come dire forse non si dovrebbe neanche partire e ciò ovviamente vale anche per gli studi che sostengono un'ipotesi lunga quindi anche per quella che è la strategia appunto ripartiva di risposta che ribalta la faccenda e che per cui riproduce lo stesso identico paradigma addivenendo però ad altri risultati la critica queer come dire suggerisce che forse il problema non è avere risultati di un tipo o avere risultati di un altro tipo ma è appunto mettere in discussione il paradigma fin dall'inizio anche perché se poi voi andate a vedere questi altri studi tipo quelli che citava la Paola Concia cioè è un fatto interessante cioè avviene una sorta di censura degli esiti positivi nel senso Concia diceva non c'è nessuna differenza neppur minima siamo uguali e in effetti anche questi questi altri spesso nell'abstract se tu leggi sul riassuntino dell'articolo super mad dove vuoi non si rilevano sostanziali differenze e bla 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 bene siamo uguali se poi vai a spulciare invece un po' i risultati dei singoli indicatori e molto spesso su determinati indicatori i figli di coppie omosessuali performano meglio rispetto ai figli di genitori omosessuali su indicatori per esempio rispetto all'espressione del genere o alla come dire confidenza facilitare rispetto alla propria identità sessuale però capite che all'interno di una simile logica questi tipo di risultati non solo non sono significativi ma andrebbero in qualche modo a inficiare questa teoria dell'uguaglianza per cui l'identità l'orientamento sessuale del genitore è irrilevante per cui non c'è nessuna differenza nel pur minima allora se noi vogliamo assumere queste ipotesi dobbiamo per forza anche lasciare fuori o comunque mettere un po' in fondo l'articolo in nota quelli che sono eventualmente anche risultati positivi e che quindi sarebbero un po' cioè la valorizzazione anche dell'omogeneitarialità come laboratorio sociale per come dire eventualmente forse suggerire l'ipotesi che insomma non è detto che questa configurazione edipica sia necessariamente la più funzionale ecco e l'altro punto è ovviamente anche questo ancora una volta strutturale epistemologico non meramente reparativo ed è una messa in discussione della causalità che è presa in esame ovvero al di là che questi esiti siano positivi negativi siano come siano ma come è possibile separare gli esiti derivanti dal fatto che un soggetto ha genitori omosessuali dal fatto che un soggetto vive in una società omofoba cioè quanto gli esiti derivano dal fatto che i genitori sono omosessuali quanto gli esiti derivano dal fatto che la società non è omofrendli quindi anche qui vedete come il punto sia quello non quello appunto di valutare il soggetto peraltro con questi parametri così un po' anche discutibili nel quantitativo ma proprio di mettere in discussione tutto il contesto che crea questo soggetto e poi di base si tratta anche un po' di fare una critica all'eterosessualità come cioè ripeto torniamo sul punto della decostruzione qui l'eterosessualità si pone come il gold standard no? cioè è il il parametro in base a quale le eventuali performance diverse possono essere valutate più o meno cioè quanto più o meno si possano approssimare a questa norma ideale tant'è vero che in quei casi in cui pare che questa norma ideale addirittura la superi non la migliore in quei casi lì devono essere in qualche modo censurati forse poi ovviamente il punto più come dire radicale fondamentale che spazza via con tutta la questione di questi discorsi è proprio il rifiore di sottoscrivere un processo di legittimazione sociale se questa avviene attraverso la legittimazione di una adeguata performance genitoriale perché è poi questo il sottointeso delle politiche mainstream cioè la legittimazione alla genitorialità che poi la si voglia o meno intraprendere nelle proprie vite individuali è il veicolo per il riconoscimento sociale quindi come dire l'obiettivo è instaurare l'istituzione poi ai singoli è lasciata la libertà se inserirsi o meno in questa istituzione ma il problema come dire non è ci mancherebbe ancora e non mi lascio la libertà di inserirmi in questa istituzione o meno il problema non è quello il problema è che inserendo un'istituzione installando un'istituzione tu hai automaticamente installato una forma di validazione che appunto fa discendere la mia legittimità di soggetto dalla mia performance come moglie come marito come buon cittadino come madre come padre e a questo ancora una volta lui ha chiede e se così non fosse cioè quando anche fossimo in grado di farlo dimostrassimo che siamo perfettamente in grado di farlo come forse anche meglio ma lo vogliamo davvero e soprattutto a che prezzo cioè che cosa dobbiamo escludere per come dire rientrare in questo gioco appunto di legittimazione ecco questi sono i punti che io avevo che mi ero segnato adesso manca un quarto d'ora quindi direi che possiamo lasciare libero spodo a un po' spreddo non so se 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 ha fatto un po' appisa una domanda ai relatori volevo chiedere se è possibile secondo voi considerare la teoria queer una sorta di anarchismo all'interno delle teorie di genere dico così soprattutto in luce dell'insofferenza radicale alla norma alla devianza e alle difficoltà nel costruire una proposta coerente alternativa a quelle che già esistono per non rischiare di cadere in nuovi identitarismi se vedete anche voi un parallelo come lo vedo io ma indubbiamente c'è c'è tutto un filone di anarchismo queer e sicuramente c'è un un rapporto c'è stato un rapporto che andrebbe analizzato contesto per contesto no devo dire che sul piano teorico è difficile definire questi saperi incorporati come anarchici in senso stretto no forse una certa lettura anarchica di Foucault ha influenzato il queer negli Stati Uniti sì probabilmente sì e c'è una rappresentazione anarchica delle teorie queer la vedo abbastanza diffusa c'è però ad esempio non so in queste autorizzazioni sulle teorie dal basso eccetera viene recuperato la teoria dell'egemonia di grado c'è tutta una serie di saperi elaborati in vari contesti che vengono inclusi no la mia risposta personale è ma questa è la mia risposta personale nel senso il limite il grosso limite che vedo l'incorporazione anarchica del queer ad esempio è una certa in parte la teoria del potere non so come dire una certa visione individualista no per cui la questione diventa l'individuo e il potere quando anche appunto l'individuo andrebbe messo in discussione come un prodotto singolarizzato del potere però in un contesto transindividuabile quindi comunque è difficile anche parlare di singolarità però mi risulta molto difficile ci sono anche una serie di ricerche ad esempio adesso c'è un compagno coscano che sta facendo sono usciti anche dei test sull'archismo queer c'è un lavoro in corso non lo so come è difficile etichettare secondo una 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 logica politica così stringente insomma anche perché l'archismo che cos'è un contesto italiano ci sono vari filoni dell'archismo l'archismo negli Stati Uniti o nel resto d'Europa è qualcosa di un po' diverso per me è un po' difficile alcune non so ad esempio c'è questa ci sono alcune analogie alcune alcune influenze non saprei cosa trovo ma sì io in realtà non essendo competente sull'analogismo non saprei bene come rispondere però mi viene da dire così proprio intuitivamente che sicuramente c'è come dire un'assonanza rispetto alla forte alla forte enfasi che queer pone sul discorso di normatività e antinormatività però come dire quello che mi viene da dire è un po' anche l'attenzione della critica queer a non esaurire il potenziale di trasformazione politico appunto in questa antinormatività cosa che come dire è ancora più urgente nei tempi in cui siamo nel senso che in un contesto di sessualizzazione della cultura così pornografico e selvaggio come quelli in cui viviamo la antinormatività cioè la trasgressione di genere o la trasgressione del comportamento sessuale è difficile che basti quella per innescare una dimensione trasformativa quindi adesso non so come questo si possa relazionare alla riflessione dell'attinormatività però sicuramente ecco un punto anche importante della critica queer è questo di non dare per scontato il potenziale trasformativo della trasgressione benché sia quello che ha un po' come dire originato tutto il party che ci stiamo vivendo cioè quel tacco 12 lanciato Barley Stonewall la drag queen eccetera che come dire non ci possiamo più fare affidamenti cioè sveglia ecco abbiamo passato siamo passati attraverso il permosconismo insomma non è più abbastanza quella quella trasgressione infatti cioè su questo mi sembra che bisogna si debba un po' anche ragionare da qua in avanti e penso che questo seminario sia un po' dentro di quello di parlo nella sua dimensione affermativa cioè partire dalla domanda se così non fosse è insomma abbiamo sperimentato tutti i movimenti più o meno che sono dati anche negli ultimi 10-15 anni si parte da un netto rifiuto cioè si parte da un no a qualcosa a una riforma a una retorica alla possibilità di alla non possibilità di vivere la vita in un certo modo dopodiché tutta una serie di movimenti cioè non solo il movimento gay lesbico GLBTQ ma tutta un'altra serie di movimenti ha avuto dei blocchi rispetto a la capacità trasformativa in Italia più che nel resto del mondo cioè rispetto a certe cose per esempio mi viene in mente rispetto all'università sono 10 anni che si fanno movimenti all'università una riforma dopo l'altra è passata una riforma dopo l'altra non si è mosso nulla all'interno della gerarchia accademica e nel rapporto all'università e all'esterno nonostante che il rifiuto fosse altissimo la capacità di disarticolazione dei linguaggi delle retoriche fosse altissima e la capacità anche di leggere la pervasività di quelle retoriche sulle proprie vite e sul proprio futuro quindi insomma se così non fosse stato posto con forza anche a livello transindividuale e dopodiché lì come vedo anche insomma nella teoria maneggiandola un pochino manca la capacità affermativa che era quella del tacco dolce cioè non lo so che è un po' anche quella che è venuta meno nel momento in cui si abdica a l'identità cioè al costituirsi attorno all'identità perché dire queer in qualche modo parte un po' da da quel movimento di assumere per sé quell'identità che ti viene affibbiata e giocarla contro in qualche modo spiazzandola aprendola è un po' lo stesso movimento che veniva ne abbiamo parlato rispetto per esempio al black power cioè il negro era diventava un dato di forza rispetto al bianco non più un dato di di subordinazione quindi il queer assume questo questo dato spiazzante dell'identità ma lo apre completamente aprendolo completamente la capacità affermativa diretta di modificazione in qualche modo viene le sue coordinate vengono perse ecco bisogna ritrovarle su questo siamo d'accordo che quel movimento identitario non funziona più ce ne rendiamo conto ce ne siamo già resi conto e ogni qualvolta ci ricadiamo ci rendiamo conto che è destinato a perdere e dopodiché dobbiamo immaginare anche dei meccanismi di vittoria su questo perché anche rispetto all'omogenitorialità al matrimonio gay ma a tutta un'altra serie di questioni dire che non funziona è è un punto di partenza affermare pratiche diverse di genitorialità di dello stare insieme anche del del vivere delle relazioni è la sfida come si fa a farlo non solo a livello individuale ma a restituire quella dimensione sociale transindividuale da cui poi dentro qui quelle retoriche poi però si muovono quindi non è che è quello il campo di battaglia oltre a se stessi una domanda mi aspetto una risposta è possibile dare solo risposte parziali anche qua la prima cosa che mi la prima risposta che mi viene è questa sì è vero riconosciuto il piano normativo aggredito decostruito la rimane e non ho la forza di ribaltarlo cioè non ho la forza di ribaltarlo però la protocoduttività sta anche in tanto in una dimensione multiplanale per cui è vero di fatto il matrimonio non c'è la consensualità non è riconosciuta legalmente ma quello è un piano cioè esiste non so la legge 40 vieta l'inseminazione artificiale a chi non è sposato eccetera però di fatto nella pratica le resistenze esistono già cioè le lesbiche si riproducono se ne hanno voglia da sempre cioè non so come dire ci sono mille modi mille pratiche per anche maschi gay hanno avuto accesso alla cioè alla alla genitorialità poi è chiaro lo Stato diciamo non me la riconosce la cultura dominante mi guarda strano però di fatto esiste l'auto-organizzazione esiste la pratica di no comunque anche a livello micropolitico di costruire la serratina no che è quello poi che facciamo no cioè su tutti su tutti i piani quanto tutto questo a livello di movimento molare possa veramente instaurare una vittoria una presa di potere non lo so però anche qui probabilmente ci sono tante prese di potere micro prese di potere da attuare prima non lo so cioè prima devo in qualche modo prendere il potere sul mio corpo cioè e quindi già lì ci potrei passare una vita nel senso non sono continuamente destituito di si ma scusa vi ti interrompo si tratta di riuscire a creare cioè quello che mi viene da omolare ti serve per riuscire a creare delle condizioni in cui questa cosa sia insomma non dico più semplice però no no questo mi è chiarissimo tant'è vero che appunto penso che la cosa interessante io penso non so per l'Italia forse il periodo pre post 77 è stato un periodo molto interessante da questo punto di vista dove era anche molto evidente che tutta una serie di di sottrazioni di ribaltamenti si rimandavano l'uno all'altro in qualche modo o comunque avevano un effetto di moltiplicatore quindi tutta una serie di rifiuti di normatività dalla fabbrica all'ospedale psichiatrico alla famiglia in qualche modo stavano tutti insieme anche se non c'era una ricomposizione realmente politica per promessere i conflitti però risuonavano cioè io non saprei come altro immaginare questa cosa come un effetto di risonanza di risonanza nel quale quello che io sto facendo su vari piani può risuonare con quello che tu stai facendo su altri e e questo può produrre un effetto di moralità non so come dire è difficile pensare a a che questo sia un soggetto morale nel senso proprio conta molto il clima ecco conta molto il clima cioè le accelerazioni le temporalità ecco questo anche forse un elemento sul quale c'è una grossissima riflessione no? la cosa che mi sembra più interessante anche rispetto anche a questo discorso del bambino della proiezione sul futuro pensare la politica cioè non solo pensare se stesse e la propria sessualità e la propria proiezione del tempo non come pensando al futuro come staranno meglio i nostri figli non pensare cioè perché il bambino non è solo quello che dobbiamo desiderare anche gli omosessuali e tutte le donne devono desiderare un bambino ma anche tutte le froce devono desiderare un bambino perché altrimenti che cosa vivi a fare se non ti realizzi nella proiezione del futuro ogni teoria politica e qui sto citando però perché mi interessava anche fare questo discorso l'avevo preparato per il discorso sul palestro e lo rifilo a te ogni proiezione politica nel futuro in un mondo migliore in una no anche proiezione utopica in cui la ricchezza sarà distribuita in un modo diverso eccetera in qualche modo pospone la trasformazione la proietta sul futuro e quindi la proietta sul bambino interiore perché anche se non lo facciamo pensiamo sempre ai bambini che verranno ecco proviamo a non pensare la politica senza il bambino oppure altro ribaltamento possibile proviamo a pensare al bambino qui era cioè non tanto appunto a chi a chi tutela a questi poveri bambini dalle froce che li deviano nel loro percorso ma pensiamo a chi tutela o a come consentire uno spazio di liberazione di trasformazione al bambino queer perché il bambino non è mica che nasca eterosessuale e che abbia già voglia di lavorare di fare figli e di andare a scuola e a sentirsi la lezioncina da cantare no questo ce lo fanno diventare proprio questi genitori normativi che usano che in realtà lo dico questo perché sono molto d'accordo che quando si parla di matrimonio gay sotto si parla appunto del bambino perché si parla sempre del bambino cioè della genitorialità e non a caso nelle manifestazioni in Francia in questo periodo no la contramanifestazione dei fascisti dei conservatori di tutto il risme dei musulmani e di tutte di una grande interessante coalizione che va dall'estrema destra di Le Pen a alcuni partiti che fino al giorno prima stavano con il movimento antirazzista perché in un clima estremofobico anche solo il movimento di estrema sinistra in qualche modo sostiene le associazioni musulmane però sono andati in piazza con i fascisti pur di dire no il matrimonio gay non si deve fare ovviamente cosa il nome di cosa vanno in piazza difendiamo i nostri bambini ma che ne sarà di questi bambini che non avevano il padre o una madre portando sti no sti fantoccio dei bambini allora ed è veramente un fantoccio per il bambino che si portano è veramente un bambino un bambino fantasmatico perché invece i bambini i bambini che anche noi pure l'Elisa è stata una bambina anche noi siamo stati bambini da un sacco di tempo fa però noi abbiamo avuto dei grossi problemi cioè chi è che ci difende da da una famiglia eterosessuale normativa che prevede non prevede che tu non possa essere altrimenti no? questa è la la questione da porre sulla genitorialità ma non sulla genitorialità omosessuale sulla genitorialità tutta cioè su quella eterosessuale perché noi vogliamo si strappare i propri vostri bambini prima che li castriate completamente cioè prima che ne facciate un altro no? perché e poi sappiamo che invece dentro le persone più illuminate c'è una impressione ovviamente sulla genitorialità cioè c'è un discorso sulla genitorialità che va avanti ai anni 70 che riguarda anche il femminismo che riguarda i strati della popolazione quindi anche cambiano le forme di trasmissione però al fondo di questo alcuni tabù fondamentali tipo la sessualità infantile che non esiste cioè fino ai 18 anni tu sei desessualizzato quindi l'omosessuale si ritrova ovviamente in particolar modo se non è che vai all'asilo a 4 anni e baci la bambina allora che bello è già un momento no? no il problema è se già non dai questi segnali di oggetto sbagliato qui sopra no? e quindi anche lì il bambino non può essere queer non può essere frocio da io lo ero già 6 anni e 4 anni non perché ci sia nato perché neanche voi siete nati etero io neanche sono nato proprio però insomma ognuno si esprime già no? e si esprimono tante cose non seriamente per sempre ecco anche queste identità che si devono costruire eradicare presupporre prima della nascita perché se no di che cazzo di colore li compro le pantofonine a questa bambina se non so se non so i consensi il dramma questi dramma tutti viviamo cioè ecco un movimento queer trasversale potrebbe chiedere insomma che basta non regaliamo più le scarpine rose le scarpine azzure cioè non pensiamo più e non pensiamo più alla nostra politica come il futuro e il mondo migliore dove i nostri bambini saranno meglio cioè pensiamo a qui e adesso a quello che vogliamo al mondo che vogliamo e facciamolo anche in sedicesimi non so come dire in micro confesse e proviamo a diffonderlo ecco no mi veniva in mente che recentemente avevo visto una cosa che mi ha fatto pensare come questo discorso e retorica del futurismo riproduttivo come chiamato sia stata appunto adottata dallo stesso movimento c'è questa mia iniziativa pensata da Dan Savage che è un blog un columnist americano che è un blog molto popolare di lettere tipo come si chiamano le lettere personali no la rubrica del cuore esatto e questo questo giornalista ha iniziato una campagna virale su youtube di video in cui ha chiamato una serie di testimonial ha invitato una serie di testimonial famosi a rivolgersi agli adolescenti queer ma c'è la qualunque da Obama Oprah Winfrey insomma personaggi importanti e si intitola It gets better quindi è giocata proprio tutto su questo retorica della futuribilità della sopravvivenza che è ovviamente da una parte il come dire il suggerimento quanto mai condivisibile grande applauso al fatto che appunto è possibile sopravvivere a un'adolescenza queer e questo siamo tutti d'accordo però come dire anche lì un po' si sposta tutta la partita su un futuro in cui come dire questa sessualità potrà essere espressa liberamente anzi sarebbe stato magari anche fortificato da da quel periodo omofobo che comunque è dovuto attraversare però come dire il riconoscimento e la ricompensa è sempre un po' traslata nel futuro quindi da una parte va bene siamo tutti d'accordo nell'invito a sopravvivere e nel fatto che sia importante soprattutto per le ragazzine e le ragazzine avere dei modelli adulti che appunto sono sopravvissuti a quello però come dire anche avere la possibilità di viverlo quella adolescenza quella scuola superiore e non semplicemente sopravviverci perché poi tanto vado a Milano all'università e quindi insomma posso dare spoglare la mia frociaggine e insomma è altrettanto importante ci sono altre domande la domanda retorica da fine talk show televisivo se non ci sono altre domande direi che possiamo chiudere grazie mille ci vediamo col prossimo incontro giovedì sempre qui c'è un workshop alle 15 sempre e lunedì invece c'è il laboratorio in cui discutiamo un po' delle cose di cui abbiamo parlato oggi lunedì dalle 17 alle 19 invece l'incontro con gli ospiti esterni il giovedì sempre qua a meno che non ci dia un poco l'incontro 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 Grazie.